E' ora di andare. E' ora di andare. Siamo immobilizzati. Non l'abbiamo neanche graffiato. Sfiva munizioni colpita. Per fortuna non è esplosa. L'abbiamo preso. Carro nemico danneggiato. Sfiva munizioni colpita. Sfiva munizioni colpita. Non abbiamo penetrato la corazza. Carro nemico danneggiato. Carro nemico distrutto. Carro nemico distrutto. Tungri! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.